dal 12 giugno al cinema tutti insieme a vedere ore 18 in punto amoni dal 12 giugno al cinema ore 18 in punto dal 12 giugno dovete andare tutti al cinema a vedere ore 18 in punto dal 12 giugno al cinema ore 18 in punto dal 12 giugno al cinema ore 18 in punto un film bellissimo wow dobbiamo andare al cinema a vederci ore 18 in punto quando? il 12 giugno il 12 giugno tutti al cinema per vedere il film ore 18 in punto dal 12 giugno al cinema ore 18 in punto un film di serie a dal 12 giugno al cinema tutti a vedere ore 18 in punto non perdetelo perché non ve lo perdonereste mai vi aspettiamo tutti insieme appassionatamente